Salve a tutti e bentrovati in questo nuovissimo video. Parliamo di Grande Fratello VIP, si avvicina a mano mano il giorno in cui ci sarà lo start e notizia positiva, Alfonso Signorini ottiene il pass positivo per un noto attore. Allora, manca poco, no? Al 19 settembre tutte le tessere stanno andando al loro posto, in qualche modo i pezzi del puzzle si sta completando. Il conduttore sarà affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Urietta Berti. Al GF VIP Party i protagonisti saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, mentre Sofico Degoni è stata chiamata per Casa Chi. Il cast dei concorrenti è ormai quasi al completo. Al GF vedremo Giovanni Ciacci, Vilma Goic, Antonino Spinalbese, poi Carolina Marconi, Gegia, Pamela Prati, Eleonore Ferruzzi, Edoardo Donnamaria, poi ancora Charlie Gnocchi, Giorgio Ciulipi, Ciupilian, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Amarius Perez, Luca Salatino, Sergio Assisi, Nikita Pelison, Sara Manfuso, Cristina Quaranta, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Sofia, Giaele, De Dona e Ginevra Lamborghini. Signori, il cast è veramente imponente, il bello che non è finita qua. Perché Alfonso Signorini ha appena ottenuto, come abbiamo detto a inizio video, il sì di un popolare attore protagonista di un sacco di cose, il commissario Nardone, Elisa di Rivombrosa 2, insomma, stiamo parlando di un attore con una vasta esperienza sia nel teatro sia nel piccolo e grande schermo. Al cinema lo abbiamo visto in Ferdinando e Carolina di Lina Bertmuller, in Guardiani delle Nuvole di Luciano Dorisio, in Ultima Fermata di Gian Battista Assanti e in Fratelli Unici di Alessio Maria Federici e in Napoli non piove mai, film che ha diretto proprio lui stesso. Ecco, siccome ho nominato la direzione, sicuramente qualcuno avrà già capito. Sto parlando di Sergio Assisi, il quale si è cimentato anche nei ruoli di opinionista, conduttore giurato in numerosi programmi. Ora, non so chi di voi sarà contento di vedere lui nel programma, anzi, se volete potete lasciarmelo qui sotto nei commenti e vedremo fino a che punto arriverà nel programma. Comunque, nel 2012 ha partecipato a Ballando con le Stelle, poi è stato giurato di Miss Italia, nel 2016 è stato a Tale e Quale Show, mentre un paio d'anni più tardi ha condotto il primo festival. L'anno scorso Milli Carlucci lo ha voluto con sé al cantante mascherato. Ebbene, a questo punto per lui dovrebbe aprirsi anche la famosa Porta Rossa del grande Fratello Vip, in modo che riesce a completare anche il suo curriculum. Al momento, però, posso dirvi che non ci sono conferme né i profili Instagram del reality, né la fanpage, né tantomeno il diretto interessato parlano della sua partecipazione. L'ultimo indizio, lanciato da Alfonso, parla di un simpatico giovane vecchio, però in realtà potrebbe essere chiunque. Dovrebbe, però, trattarsi di Attilio Romita, giornalista 69enne. In ogni caso, il magazine oggi ha lanciato l'indiscrezione sul colpaccio dei signorini che pare abbia ottenuto il sì di Sergio Alessi. Non resta allora che attendere qualche spiccioletto di giorno per scoprire se le cose stanno davvero così. Quindi, ci sentiremo al prossimo aggiornamento, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro a tutti voi una buona giornata.